Gentili telespettatori, buona giornata. Forza Italia respinge Giorgia Meloni su Vigilanza Rai e sulla Calabria. Diciamo che ultimamente possiamo distinguere chiaramente un partito senza vergogna, quello del Berlusca, un partito al crepuscolo alla fine, un partito al 6%, un ex grande partito e l'ombra di quello che era tanti anni fa. Da Forza Italia ormai, come dicevo, un partito in decadimento sbattono la coda in modo da far vedere che loro ci sono, ma loro ci sono fregando gli altri, loro ci sono rompendo le regole nel centro-destra, ma loro capite che non hanno niente da perdere, ormai il partito è al tramonto, non hanno nulla da perdere, alzano la voce, rompono le regole e cosa ci possono fare gli altri? E così Forza Italia respinge Giorgia Meloni su quello che gli spetta alla Commissione di Vigilanza Rai, dopo che gli hanno fregato il posto nel Consiglio di Amministrazione. Forza Italia si è arraffa quello che può, un partito così arraffa, arraffa come fanno tutti i piccoli partiti. L'Aron Zulli dice il nostro candidato resta occhiuto in Calabria e la presidenza della Commissione non si cambia. Ah sì? Beh, Giorgia Meloni, con questa gente forse è meglio chiudere, oppure un giorno che sarai premier, ma non gli dare neanche un ministero, ma niente, dice voi siete del 6%, ma che volete? Sapete che nelle alleanze pari opportunità e siamo tutti uguali se governiamo? No, se governiamo non siamo tutti uguali, un partito dal 6% che magari prenderà il 4% alle prossime politiche deve avere i posti da ministro, sottosegretario, eccetera, che valgono per quel 4%, cioè quasi niente. Diciamo come qualcuno dice, tempo al tempo ci sarà modo di restituire l'amabilità che ha questo partitello verso la chiusura con 100 milioni di debiti. Ci sono le nomine alle testate, ai Tg Rai e ci sono le amministrative. Sembrerebbero partite diverse, ma così non è, sono della stessa medaglia. Così c'è l'azzurro controcorrente Elio Vito che si era schierato a sinistra in difesa del testo del PD. Ora si butta a destra per tutelare i diritti di Fratelli d'Italia, di avere una rappresentanza nelle commissioni di vigilanza Rai. Ma Forza Italia non ha alcuna intenzione di lasciare la presidenza, perché da sempre l'opposizione ha un suo ruolo di controllo. C'è poco da sorprendersi, un po' i principi, un po' la visibilità, che è materia prima della vita politica. L'ultimo sondaggio, ad esempio, di SVG, da Fratelli d'Italia come primo partito, altri la danno come terzo partito. Insomma, i sondaggi sono un po' pazzerelli. Sbaglierebbe chi, volendo semplificare, vedesse un asse Forza Italia-Lega che si contrappone a Fratelli d'Italia. Non è sempre, non sempre è così. Bene, sulle amministrative Giorgia Meloni ha già semibloccato gli accordi, dicendo non avete rispettato gli accordi fondamentali che ci sono nel centro-destra. Quello sulla Rai c'era un accordo tra Berlusconi, Meloni e Salvini, non è stato rispettato. Pertanto lo scontro in questo momento è totale tra il partitello Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ci sono varie ipotesi adesso sul continuo delle regionali. Si voterà in autunno, ma le cose potranno ancora cambiare. Il discorso vale anche per tutte le cose che ci saranno da approvare in Parlamento. Le nomine Rai, le nomine nelle reti Rai, nelle testate giornalistiche. Pare che Fratelli d'Italia abbia già conquistato una rete e una testata. Ma in mezzo c'è l'elezione del capo dello Stato e i tempi della politica che corrono sempre su binari almeno paralleli. Nella remota possibilità, dico io questo, c'è una possibilità che Silvio Berlusconi possa diventare anche capo dello Stato. Non è escluso. Voi direte, ma come? Condannato. Eh sì, non c'è nessun divieto per fare il capo dello Stato a un condannato come Berlusconi. Pertanto c'è anche questa possibilità. Il centrodestra ha dei numeri importanti per poter, con l'appoggio, ovviamente di Fratelli d'Italia e di un'altra trentina di parlamentari, decidere in autonomia il capo dello Stato. Ma se non ci fosse il sì di Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi non potrebbe mai e poi mai diventare capo dello Stato. Pertanto forse Silvietto Caro ha fatto un po' male i conti. Giorgia Meloni ha sempre detto, io non ho nessun problema a votare per Berlusconi, capo dello Stato. Ma come stanno i fatti oggi? Perché Giorgia Meloni dovrebbe fare questo favore a Silvietto quando Silvietto non ha nessun rispetto per lei e Fratelli d'Italia? Abbiamo visto quello che è successo da diverso tempo. Pertanto io consiglierei a Giorgia Meloni, nel caso ci dovesse essere un'elezione, come Berlusconi, capo dello Stato, a quel punto potresti dire eh, ho dei dubbi e ci devo pensare, e ci devo pensare. Sai, le regole sono saltate, avete fatto anche gli sbruffoni, tanto noi in Calabria vinciamo lo stesso, la presidenza della vigilanza RAI non te la diamo perché l'abbiamo arraffata, ti abbiamo tolto anche il posto nel CDA della RAI, abbiamo arraffato anche quel posto. A quel punto Giorgia Meloni potrebbe dire eh, caro Berlusconi, adesso non ci puoi fare più niente, anche con tutti i soldi che hai non mi puoi comprare, il posto come capo dello Stato te lo scordi, te lo scordi, ma come un'occasione del genere, il primo capo dello Stato di centrodestra, eh, insomma, chi semina raccoglie. Questo è uno spunto che sto dando a Giorgia Meloni di riflessione. visto il comportamento dello pseudo-alleato, dovresti prendere anche poi delle contromisure, delle gentili risposte a questo signore di Arco. Dici, guarda, caro il mio Silvietto caro, sei tanto simpatico però ti sei comportato proprio maluccio, sei proprio un po' birbone, se mi posso permettere il termine. Eh, è un po' birbone. Ai birboni bisogna rendere pan per focaccia, se no si passa per fessi. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.